Ehi, siamo qui per una cenetta carina. Che cosa fai, Liv? Sembra che tu stia masturbando un fantasma. Completa l'obiettivo passi di oggi. Devi fare dei passi veri, se no non vale. Questo è un uccello morto. Sembra squisito. Scusi, ma c'è una versione vegana del piatto? Magari qualcosa fuori menù che solo i ben informati conoscono? No, signora. È uno spettacolo. Ok, ne assaggerò un po' per lavoro.